Debole affluenza alle urne, cresce di poco il dato sull'affluenza alle urne, ma quasi la metà dei sardi non va a votare. Primi risultati elettorali, le operazioni di scrutinio vanno a rilento, ma emergono i primi risultati e danno in testa Cristian Solinas. La Sardegna e i suoi governatori, Soru, Cappellacci e Pigliaru, breve storia dei tre governatori che hanno preceduto queste elezioni. Sport Cagliari, Cagliari perde anche con la Sampdoria, ma l'umore tra le tiposerie. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. Noi siamo presenti come tutte le televisioni e i mass media per queste elezioni e iniziamo con una serie di servizi che danno un quadro di quello che sta succedendo. Innanzitutto l'affluenza alle urne che è sempre molto bassa rispetto ad altre regioni del nord Italia. Affluenza totale alle 22 di ieri, 53,75%. In Sardegna ieri ha votato poco più della metà dell'elettorato attivo, meglio della scorsa tornata di votazioni, ma sempre un dato allarmante. Il 46,25% degli aventi diritto in Sardegna non si è nemmeno disturbata di recarsi alle urne. Nel 2014 è andata peggio e a votare si erano recati appena il 52,28% degli aventi diritto. E si tratta di un appuntamento importante, quello del governo regionale. Al di là di chi vincerà queste elezioni, bisognerà quindi chiedersi cosa c'è dietro questo astensionismo, quanta delusione, menefreghismo, oppure semplicemente la percezione che la voce dei singoli non abbia più peso nei grandi giochi della politica. Bisognerà chiederselo e porvi eventuali rimedi. La democrazia si basa sul fatto che sia il popolo a decidere chi dovrà rappresentarlo, ma se il popolo non vuole decidere si tira indietro. Vuol dire che lascia agli organi di intermediazione e principalmente ai partiti il suo potere. Eppure il popolo ha voglia di parlare e i social lo dimostrano ampiamente, che ognuno si sente di dover dire la sua, ma evidentemente non dentro la cabina elettorale. Tornando ai numeri, su 1.470.404 elettori sono andati a votare in uno dei 1.840 seggi della Sardegna 790.347 elettori. I più sensibili sono stati gli appartenenti alla circoscrizione di Cagliari, dove ha votato il 55,47%, seguiti dai sassaresi con il 54,65% e dai nuoresi con il 53,17%. Fanalino di coda, gli abitanti della circoscrizione del Medio Campidano, che per quasi la metà hanno disertato le urne, raggiungendo una percentuale di appena il 50,85%. Noi sardi non siamo certo in cattiva compagnia. Nelle ultime elezioni del 9 febbraio, in Abruzzo, si sono recati alle urne il 49,45% degli aventi diritto, meno della metà in sostanza. Al Bolzano, una delle province autonome del Trentino Alto Adige, l'affluenza è del 73,9%, poco meno quella di Trento, l'altra provincia autonoma. Sono andati a votare per il 64%. Stiamo parlando delle elezioni di ottobre del 2018. Anche noi eravamo nella sala stampa allestita nell'istituto, scusate, nella struttura di Piazzale Trento, dove ha sede la giunta regionale. Questa è la sala stampa allestita all'occasione nel Palazzo di Viale Trento, sede della giunta regionale. Tutti i giornalisti delle testate regionali e nazionali sono in attesa dei risultati, ma le operazioni di scrutinio stanno andando molto a rilendo. Ci sono problemi nei piccoli comuni che sono obbligati questa volta a fornire dati aggregati. Ma vediamo a questo momento quali sono i risultati del voto. Dezovus 11,01 Solineas 49,25 Sedda 32,28 Lecis 0,48 Maninchedda 2,26 Pili 3,08 Murgia 1,61 I dati di 95 sezioni scrutinate su 1.840 alle ore 13 di oggi davano in testa Christian Solinas con 10.998 voti e il 49,43% delle preferenze. Secondo Massimo Sedda col 33,40% con 7.432 voti. Terzo abbiamo Francesco De Zogus con 2.224 voti e il 9,99%. Ancora Paolo Giovanni Manichedda con 2,62% e 583 voti. Mauro Pili al 2,36% con 526 voti. Andrea Murgia con 1,74% e 389 voti e Vindice Mario Leitis col 0,43% e 97 voti. Naturalmente parliamo sempre solo di 95 sezioni scrutinate su 1.840 alle ore 13 circa. Ci sono anche molte schede nulla complessivamente si tratta di 249 le schede bianche, le nulle 15 mentre quelle annullate per errore sono state 618. Ci sarà tempo per analizzare il voto nei giorni a seguire ma noi abbiamo voluto capire subito quali sono gli umori della gente, della gente comune con delle interviste che ha realizzato Maurizio Menis. Signore è andata a votare? Eh sì. Cosa si aspetta da questa tornata elettorale? Ci saranno delle sorprese probabilmente. Non lo so, secondo me sarà un altro bel pasticcio perché comunque... La sinistra è abbastanza su, non è che ci sia questo divario così gigante quindi vediamo un pochettino che giunta viene fuori. Lavoro per i giovani, sistema universitario, questa per me sono la semplicità nel viaggiare, queste cose qua per me sono le cose più importanti perché sono giovane e queste sono le cose di cui ho bisogno. Poi chi si occupa di altro insomma avrà altre necessità e saprà dire altre cose di cui io non so, comunque questo è quello l'importante per me. Molti non sono andati a votare, secondo lei è giusto o sbagliato? No, è un errore perché abbiamo votato anni e anni per avere questo diritto e secondo me bisogna andare a votare sempre. E da quanto è che vota? Due anni. Cosa si aspetta dal prossimo governo regionale? Spero un miglioramento. In che cosa? In tutto. In che cosa dovrebbe impegnarsi maggiormente secondo lei il prossimo governo? Ricondizionare un po' gli stipendi, i prezzi base e anche agevolazioni per gli studenti. Perché non siete andate a votare? Non gli stavo male. Lei? Sono fuori sede e non sono tornata perché non c'erano i collegamenti e sarebbe stato molto complicato. I seggi erano liberi, sono andato mattina presto e è andato tutto bene. Un lenzuolo come scheda è qualche complicazione ma questa è una caratteristica maschile ripiegarlo bene. Molti non sono andati a votare, qual è il suo pensiero su questo aspetto? Penso che non sia una cosa buona che non siano andati a votare, però c'è da riconoscere che è grande la distanza tra le istituzioni e la gente. Sempre più grande, ma perché è sempre più grande questa distanza? Forse si sta allontanando un po' troppo la classe politica che sta diventando eccessivamente autoreferenziale. I problemi, gli unici che sappiamo, sanno risolvere i problemi siamo noi, voi fate quello che noi diciamo, venite a votarci. C'è poco incontro, chiuse tutte le sezioni dei partiti, la base manca. E poi sicuramente o probabilmente l'identificazione dei partiti con le persone. Non è che non credo in una politica, in questa politica non credo. Perché in questa politica? Perché è una politica fatta solo di interessi o di partiti o personali, non per la gente. Semplicemente per quello. Ma la politica ci crede, è una politica fatta bene. Speriamo che chi va al governo governi come si deve e non si faccia manipolare da altri. Qui è sottointeso, questo Sulinas che non si è mai visto in campagna elettorale, cioè viene da dire, ma... L'hanno chiamato il candidato ombra. Allora, speriamo che non sia un'ombra anche nel momento in cui deve governare, perché altrimenti è molto triste. E abbiamo detto che la gente ama parlare soprattutto attraverso i social, tra ironie sulla lentezza dello spoglio, cuoricini e like di consenso. Tutto la giornata social dei candidati alla regione si caratterizza, scaramanzia a parte, senza nessuna interazione. Meglio aspettare qualche dato concreto. Nicola Piso. Nella giornata dei dati parziali e con una macchina dello spoglio lenta, lentissima, i social network non sono dei principali candidati della regione, dei nomi e cognomi della lista dei candidati, aspiranti consiglieri regionali, ma anche dei cittadini del web diventano quasi essenziali per cercare di capire secondo dopo secondo chi è in testa e chi invece cerca di inseguire. Se da Solinas per qualche ora diventano trend topic, ovvero tra gli argomenti più discussi su Twitter, sui due contendenti, al Palazzo di Via Roma si scatenano i tweet dei tifosi, c'è chi mette i cuoricini di consenso e chi fa una proposta. Gli altri aspiranti governatori, Francesco De Zogus, candidato del Movimento 5 Stelle, Paolo Maninchè da partito dei Sardi, Mauro Piri, Sardi Liberi, Andrea Murgia, autodeterminazione, Vindice Lecce, Sinistra Sarda, preferiscono sulle altre piattaforme rispettare il silenzio. Meglio non rilasciare nessun tipo di dichiarazione o postare foto che scatenerebbe ipotesi o suggestioni. Già il social sentiment, ovvero la percezione riferita alle emozioni e soprattutto reazioni, suscitate in questo caso dal candidato rispetto ai suoi lettori o elettori, che da parte loro invece si scatenano su ipotesi partigiane. Non solo a parte ironie, tante, giuste e sacrosante, sulla lentezza dello spoglio e meme su Salvini e la sua prolungata visita in Sardegna, le piattaforme social raccolgono umori e sentiment, appunto, sulle poche interazioni dell'esercito dei candidati. I principali protagonisti alla corsa alla presidenza continuano e preferiscono aspettare. Niente social e rinchiusi nel loro quartier generale, analizzano i dati minuto dopo minuti, aspettare dunque sembra la parola più gettonata. E la chiusura migliore sembrerebbe quella di Gianluigi Tidia, insopportabile il suo nick, che posta e twitta, uscitemi il governatore. Fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio e ora ripercorriamo la recente storia del governatorato in Sardegna. Raccontiamo gli ultimi tre presidenti della regione che hanno presieduto le redini della regione dal 2004 fino ad oggi. È venuto il tempo del cambio ai vertici regionali. Morto, si fa per dire, un Papa se ne fa un altro. Il Papa è in questo caso Francesco Pigliaro, che rimarrà in carica il tempo necessario a che la nuova giunta sia formata, ma solo con incarichi di mera amministrazione ordinaria. Classe 1954, sassarese, Francesco Pigliaro è un economista accademico e politico italiano, ordinario di economia politica, prorettore dell'Università di Cagliari dal 2009 al 2014. La sua attività politica lo avvicina a Renato Soru con il progetto Sardegna, contribuendo alla scrittura del programma della coalizione di centro-sinistra Sardegna insieme. Dopo la vittoria di Soru è stato nominato assessore regionale alla programmazione e al bilancio, in carico da cui si è dimesso nell'ottobre 2006, per alcune divergenze di carattere politico con lo stesso presidente. Il 6 gennaio 2014 è stato scelto dal Partito Democratico come candidato presidente alle elezioni regionali in Sardegna del 2014, in sostituzione della vincitrice delle primarie del settembre 2013, Francesca Barracciu, ritiratasi in seguito all'indagine che l'ha vista coinvolta sull'utilizzo dei fondi ai gruppi consigliari. E come sappiamo ha governato l'isola come presidente della regione autonoma della Sardegna dal 12 marzo 2014, a seguito delle elezioni regionali del febbraio dello stesso anno, quando viene eletto presidente della regione Sardegna con 312.982 voti e una percentuale del 42,45%, superando il candidato del centrodestra Ugo Cappellacci. Nato a Cagliari nel 1960 ai nipoti di Carlo Meloni, uno dei 18 uomini politici chiamati a scrivere lo statuto sardo, il commercialista Ugo Cappellacci, laureato in Economia e Commercio, è stato assessore alla programmazione e bilancio della giunta regionale presieduta da Itaro Masara. Dal 2004 alla fine del 2008 è stato assessore alla programmazione e bilancio del comune di Cagliari, in carico dal quale si è dimesso per candidarsi alla presidenza della regione Sardegna. Il 26 febbraio 2009 è stato proclamato presidente della regione Sardegna con il 51,88% di consensi. Al termine del suo mandato non è stato riconfermato dall'elettorato, che ha preferito Pioru a lui e alla scrittrice Michela Murgia. Alle politiche del 2018 è eletto alla Camera con Forza Italia, ma il 18 luglio dello stesso anno ufficializza le dimissioni da coordinatore regionale del partito. Quando un partito diventa incapace di generare nuova classe dirigente è un'entità destinata a morire. Faccio per questo con un comportamento coerente e un passo di lato, perché è giusto favorire il ricambio, una vera e propria camminata da granchio. Nel 1957 nasce l'imprenditore politico e dirigente d'azienda italiano, fondatore di Tiscali e della disciolta Andal UMTS. Parliamo di Renato Sourou, ex presidente della regione Sarda, carica che ha ricoperto dal 2004 al 2008, quando nel novembre ha rassegnato le proprie dimissioni. Laureato in discipline economiche e sociali presso la Facoltà di Economia delle Università Bucconi di Milano, nel 1992, dopo una serie di esperienze lavorative a Londra e a Milano, decide di tornare in Sardegna. Qui la sua attività imprenditoriale si sposta verso la grande distribuzione del mercato immobiliare nei paesi dell'est europeo. Poi inizia l'avventura informatica prima via online dell'allora editore Nicola Grausa, per poi fondare Tiscali nel 1998. Il suo successo imprenditoriale lo ha lanciato politicamente facendogli vincere le elezioni regionali del 2004. Nel novembre del 2008, bocciato dalla sua maggioranza che aveva votato contro Scrutinio Palese, si dimette da presidente della regione. Era da tempo un re senza corona, privo dell'appoggio del PD regionale, che alle primarie per la segreteria gli aveva preferito l'eterno nemico Antonello Cabras. La risalita non fu una passeggiata. Nel maggio del 2014 approdò a Bruxelles. Subito dopo si riprese il PD Sardo, diventandone segretario, la carica della quale si è poi dimesso. Nel frattempo aveva acquistato l'unità ed era tornato a occuparsi di Tiscali, con alterne fortune che lo hanno portato in questi ultimi tempi a seguire con impegno traversie giudiziarie. A proposito di vicende sarde, ma che a fine ha fatto la protesta dei pastori in questi giorni? Non è stato silente il movimento dei pastori? Ce lo racconta Maurizio Melis. Lo avevano annunciato. Non ci fermeremo neanche il giorno delle elezioni. E così è stato. La protesta dei pastori è continuata anche nel giorno della preferenza su chi dovrà governare la regione per i prossimi anni. Nessun assalto né seggi come paventato, ma solo blocchi stradali. Ieri mattina nei presidi Oruno, in provincia di Nuoro, due uomini a viso coperto hanno costretto il conducente di un'autocisterna a sversare il liquido bianco sull'asfalto, mezzo che aveva come destinazione il caseificio dei fratelli Pinna Tiesi. Subito dopo i blitz sulla statale 389, l'uomo minacciato ha chiamato le forze dell'ordine, che stanno indagando su quanto accaduto. Su fronte della contrattazione, il tutto è rimandato a martedì prossimo a causa dell'ultima tornata elettorale, quando a Sassari il prefetto Marani, nominato commissario della filiera, incontrerà le parti in un tavolo tecnico per la definizione di una metodologia relativa ai prezzi finali dei prodotti. La riunione è fissata per le ore 9.30 nella sede della Prefettura in Piazza d'Italia. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a vedere cosa sta succedendo, quali sono i preparativi del carnevale, un gioco diventato realtà, è una realtà che diventa gioco con questa dicotomia doppia, si potrebbe definire l'appuntamento di ieri a Doristano, quando piccoli cavalieri hanno giocato a correre per conquistare la vita stella del palio della Sartiglia. Ecco la storia, inventata quasi per gioco negli anni 70 da una catechista della parrocchia che verso la fine degli anni 90 è diventata a pieno titolo uno degli appuntamenti di spicco del carnevale oristanese e da allora si svolge tradizionalmente nel pomeriggio della domenica che precede la Sartiglia dei Grandi alla quale si ispira. Stiamo parlando della Sartille Canna, la manifestazione a cui partecipano centinaia di bambini e la maggior parte mascherati che in sella i loro cavallini di canna tenteranno di cogliere con la spada, anch'essa di canna, la stella appesa al centro della pista. L'appuntamento si è tenuto ieri ad Oristano in Piazza del Popolo e via Sassari proprio dietro la chiesa di Sant'Efisio. Sartille Canna ha visto la piccola Alice Falchi come componito Reddu. Sei anni e tanta grinta, la scelta di Alice va ad aggiungersi a quelle già effettuate per indicare i protagonisti della Sartiglia di San Giovanni, di San Giuseppe e della Sartiglia Edda. Tutto era già pronto da tempo, ieri è stato messo al suo posto anche l'ultimo tassello che ha mobilitato il popolo della Sartiglia. Il piccolo popolo in questo caso, seguendo il rituale stabilito nello statuto dell'Associazione per la tutela e l'incremento dei cavallini di canna, davanti a un numeroso pubblico festante, si è proceduto al pubblico sorteggio nei giorni scorsi per conoscere il nome del componido Reddu. Oltre ad Alice sono stati nominati a suo tempo i suoi aiutanti su Segundu, Samuele Caporale, e su Terzu, Alessio Usai. E ieri i tre hanno riservato grandi emozioni per tutti. Loro, i protagonisti assoluti, si sono lanciati nella Corsa alla Stella in sella ai tipici cavallini realizzati con le canne, secondo un antico gioco che in passato veniva fatto nelle strade cittadine. E i lavori per la preparazione dei cavallini di canna da distribuire alle migliaia di bambini che arrivano ogni anno per la festa del Carnevale sono stati ammirati e apprezzati da tutti. Una vera e propria festa che anticipa la prima Corsa dei Grandi, la Sartiglia, prevista il prossimo 3 marzo. E anche Cagliari si prepara al suo Carnevale e tutto pronto per la Ratantira. Saratantira Cagliaritana torna anche quest'anno mettendo insieme ciò che rimane della tradizione carnescialesca del capoluogo con le nuove idee portate avanti dall'assessorato al turismo del Comune. La prima sfilata il 28 febbraio coinvolte le associazioni Saratantira Casteddaia, Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori Senza Confini, Exme e Domus de Luna, Vespa Club e la Casa di Suoni e Racconti insieme con il Comune di Cagliari per la nuova edizione. Un anticipo ci sarà però già da mercoledì con una sfilata delle Brazilian Street Band e la Mogoro Marching Band musica a tutto volume tra la Piazza Ienne e il Corso Vittorio Emanuele si inizia alle 19. Sei gli altri appuntamenti giovedì 28 febbraio alle 18 nel Corso Vittorio Emanuele per incontrare le maschere e i ritmi tipici dei Isra Tantiras del Carnevale Cittadino e per percorrere le strade del Centro Storico. Sabato 2 marzo appuntamento all'Exme alle 18 per proseguire poi le strade di Pirri. Domenica 3 marzo la sfilata è dedicata ai bambini con partenza alle 17 nuovamente dal Corso Vittorio Emanuele martedì 5 marzo si parte da Piazza Giovanni ventitresima alle 18 per la sfilata che si concluderà tra una zeppola e l'altra con il rogo del fantoccio di Cancio Fali che brucerà in via Santa Margherita. Infine domenica 10 marzo si terrà alle 10.30 la Vespiglia in via Zuni organizzata dal Vespa Club Cagliari divertentissima parodia della Sartiglia e alle ore 17 la festa della Pentolaccia che si terrà presso il villaggio Pescatori rivolta a tutti in particolar modo alle famiglie caratterizzata da giochi di gruppo e dalla tradizionale zeppolata finale. L'undicesima sconfitta del Cagliari ieri in trasferta con la Sampdoria scatena la rabbia nei tifosi social e nonostante qualche attenuante e tanti infortunati un rigore molto generoso Maran continua a essere sotto accusa. Sampdoria Cagliari il giorno dopo 24 ore scandite dai cittadini del web anzi dai social network da tre interrogativi un'altra sconfitta meritata o no poco importa basta scuse o chiacchiere ennesima stagione fallimentare un quadro insomma non proprio benagurante per Maran e squadra allenatore che nel dopo partito mette l'accento sul rigore fallo di Pellegrini su Gabbiadini Quagliarella non sbaglia a suo avviso concesso con troppa facilità episodio che ha cambiato il match ammette Maran e su questa dichiarazione si scatenano i social tifosi Maran sei un bla 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 vogliamo punti e non scuse qualche segno si è visto è vero ma i punti le chiacchiere ormai stanno a zero posta sul profilo ufficiale del Cagliari Calcio Matteo Spissu gli fa ecco Maurizio Pizzo che salva la squadra oggi non rimproverò nulla i giocatori poi sempre il social tifoso mette l'accento sull'allenatore che sempre secondo Pizzo ancora una volta ha rinunciato a giocare con due attaccanti da Maran al gioco il passo è breve per altri commentatori del web sconfitti perché non c'è qualità non tiriamo in porta non creiamo occasioni da gol e perché non si suda nemmeno abbastanza senza grinta senza idee almeno Farias e Sau offrivano qualche alternativa quest'anno la vedo brutta e sul futuro si concentrano la maggior parte dei commenti via social Raffaele De Vincenzo sbotta e commenta prima la dichiarazione di Pisacane che in sinde si diceva che bisognava ripartire qualcuno ha visto le cose ricordo a Pisacane che il campionato è quasi finito e dunque mi dici da dove vuoi ripartire dalla Serie B forse intendi non proprio ottimista De Vincenzo chi invece prova a salvare la squadra è Sergio Casula che condivide la sua analisi una formazione fortemente rimaneggiata a caso dei numerosi infortuni perde per un rigore molto generoso non capisco i commenti di certi tifosi infine c'è chi ringrazia addirittura la Juve per aver battuto il Bologna al netto di tutto il Cagliari con la sconfitta di ieri l'undicesima della stagione nonostante le attenuanti sembra perdere appeal anche tra i tifosi via social che fino a qualche settimana fa sembravano più combattivi ora invece la percezione il sentiment social sembra quasi di rassegnazione è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni per averci seguito la nostra sconfitta e vi ringrazio